La questione delle sanzioni imposte dall'Unione Europea alla Russia di Putin è riapparsa ai riflettori durante la visita all'Expo del leader del Cremlino con Matteo Renzi. Una visita si dice fatta anche per rompere l'isolamento dovuto alla crisi ucraina, con un paese, il nostro, con cui la partnership commerciale era stata finora molto forte. Al di là delle dichiarazioni di principio, l'Italia sta pagando forse ancora di più del miliardo di euro l'anno di mancate esportazioni, come ha ricordato lo stesso Putin. Tanto che gli imprenditori italiani, con fatturati importanti con la Russia, come accade per Società Italia, un distributore di brand legati al model made in Italy, fotografano un quadro ancora più preoccupante, come afferma il suo amministratore delegato Roberto Chinello. Certo è molto più ampio perché comunque c'è anche tutto un indotto indiretto. Pensiamo per esempio che i russi erano i principali acquirenti tax free. Quando andavano a fare le operazioni tax free si parla di operazioni di 20-30 mila euro per persona. Quindi vi era un grande business legato al turismo russo che si è a dir poco dimezzato in quest'ultimo anno. Altro aspetto estremamente negativo è che non sembra che a livello governativo l'Italia abbia un chiaro quadro di che danni si stiano producendo al settore dell'export. Secondo noi non hanno un'idea chiara, vorrei dire che forse hanno un'idea chiara che devono seguire per forza i nostri alleati americani, ma non hanno ancora ben capito che la Russia è una componente dell'Europa fondamentale, cioè è mezza Europa, è un grande mercato. Se l'Europa unita vuole fare PIL lo può fare soltanto con la Russia perché la Russia è un grande importatore di prodotti italiani. Pensiamo che la Russia come paese la moda è il mercato numero uno per i nostri brand. Pensiamo che il food da poco è fermo con l'embargo sui formaggi, su alcuni prodotti ha perso moltissimo. Poter riaprire questi canali significerebbe dare spazio al nostro paese per recuperare PIL, posti di lavoro e quindi portarci a livelli accettabili con i nostri partner.